Cresce in provincia di Teramo il numero dei comuni con limitazioni a causa del covid. Dopo Roseto, Pineto e Silvi, anche Tortoretona entra a far parte dal lunedì 15 marzo. Sono circa 70 i casi di positività registrati negli ultimi 10 giorni nel comune costiero. Per questo motivo la regione nella serata ieri ha deciso di firmare l'ordinanza. Il virus ha colpito famiglie intere abbassando anche la media dell'età dei positivi. Il primo cittadino tortoretano Domenico Piccioni ha lanciato però l'ennesimo appello ai suoi concittadini. Con molto dispiacere ma anche se i dati purtroppo sono implacabili. Negli ultimi 10 giorni abbiamo avuto circa 70 casi positivi di cui 5 sono ricoverati in ospedale, abbiamo avuto anche un deceduto. Purtroppo si è arrivata a questa soluzione di rafforzare la nostra zona. Non è proprio zona rossa, è una zona arancione rafforzata con altri divieti più stringenti. Cercheremo con le nostre forze di polizia municipale di monitorare il territorio. Però è un momento difficile. Come oggi vede una giornata così splendida. Non è che con due vigili riusciamo a controllare tutto il territorio. Ovviamente bisogna fare un appello alla cittadinanza. Assolutamente sì. Come io ripeto da tanto tempo, di essere più attenti, di rispettare il distanziamento, soprattutto di portare le mascherine e cercare di convincere i nostri figli a far sì che non si reaggruppano insieme senza mascherine, ma che stiano insieme, muniti di tutta l'attenzione del caso. Mascherine, distanziamento, lavarsi le mani. Purtroppo è un momento difficile. Se tutti insieme ci atterremo a questa disposizione, penso che nel più breve tempo possibile usciremo fuori da questa situazione.